Siamo in compagnia di Gino Schiona, direttore generale del Cial. Direttore, l'alluminio è uno dei materiali principi dell'economia circolare italiana ed europea ed è qui in mostra in Ex Novo Materials. Certamente all'interno, come il pubblico ha già apprezzato, abbiamo creduto in questo spazio dedicato all'economia circolare e quindi ai materiali che in particolare hanno queste caratteristiche di recupero, riciclo e non solo ma anche di applicazioni innovative, in particolare nella fase d'uso credo che sia molto importante e quindi abbiamo sostenuto questa iniziativa. Direi che questo ci permette anche di affermare sicuramente che l'alluminio, come lei sosteneva, è uno dei materiali leader che incarna l'economia circolare già da tempo. Pensiamo che comunque è un materiale nuovo, ha solo 100 anni di vita, ma è un materiale che è riciclabile, ma ha ogni ciclo di riciclo, non perde le sue caratteristiche. È così denominato un materiale permanente che si va a distinguere dai materiali di origine fossile ai materiali di origine biologica. Questo permette credo di affermare proprio che sicuramente nella fase di riciclo e di recupero è un materiale che ha le migliori performance e le caratteristiche che rendono questo materiale idoneo a affrontare il nuovo futuro.